Ciao, io sono Rita Ghiria e questo è il mio canale. Ciao ragazzi, sono in un balcone. Vedremo Minecraft sul cellulare. Nina, cosa vuoi per merenda? Voglio il panino, il cioccolato, la pizza. E voglio anche nonna, così che mi fai da mangiare. Certo Nina, vado subito a fartelo. Tutto ciò che avete visto è stata una piccola parte di tutto ciò che vedete sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace, ovviamente se vi è piaciuto il video. E vi ricordo di seguirmi su Minuticali, su Facebook e su Instagram. E ciao, un bacione.